Per tutti gli aretini e porta Trento Trieste, simbolo e storica sede del quartiere di Porta Sant'Andrea, questa struttura, realizzata nel 1816 in onore del Duca Ferdinando III di Lorena, è una delle poche rimaste intatte della cinta murata della città di Arezzo, un restauro voluto dall'amministrazione comunale, la riportata all'antico splendore. È stato restaurato tutto il paramento murario, è stato restaurato il portone, sono state rifatte le coperture sopra i due ambienti accanto alla porta, sono stati installati dispositivi di videosorveglianza e apparecchiature elettriche antipiccione. Il grosso è stato proprio il lavoro di restauro, in molte zone c'erano cresciute delle piante all'interno fra il paramento murario e la zona interna e quindi si stavano muovendo molte pietre, è diventato anche oggettivamente molto pericoloso. Porta Ferdinando, Porta Trento Trieste per noi è la nostra porta perché è a faccia su Piazza San Giusto e devo dire che seguendo i lavori ho visto che sono stati eseguiti molto bene, da una ditta molto specializzata e molto educata perché con l'invicinato si rapporterà molto bene. Questo fa sì che splenda ancora di più questa piccola piazza che è poi fonte di tante iniziative perché abbiamo una sede storica qui accanto e sono molto orgoglioso, spero presto di poter aprire perché ho visto che con facilità quel portone si apre e si chiude, quindi spero di aprirlo presto.